Tra le brillanti stelle che hanno illuminato il firmamento del cinema, spicca il nome di Lee Van Cleef. Questo straordinario attore ha lasciato un'impronta indelebile nell'industria cinematografica, grazie alla sua presenza magnetica, al suo talento innato e alle sue interpretazioni indimenticabili. Un uomo che ha saputo trasformare la sua vita in un'opera d'arte e conquistare i cuori di milioni di spettatori in tutto il mondo. Unisciti a noi mentre esploriamo la vita e la carriera di Lee Van Cleef, un'icona del cinema che ha lasciato un'eredità che perdura nel tempo. Lee Van Cleef è nato il 9 gennaio 1925 a Somerville, nel New Jersey, negli Stati Uniti. È stato il figlio di Clarence Leroy Van Cleef e Marion Leviney a Van Fleet. Fin dalla sua infanzia, Van Cleef mostrò un interesse per la recitazione e il cinema. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Van Cleef si arruolò nella Marina degli Stati Uniti e prestò servizio come artificiere a bordo di una nave di supporto. Dopo il suo congedo, tornò negli Stati Uniti e iniziò a lavorare come impiegato delle poste per mantenere se stesso e la sua famiglia. Tuttavia, la passione per la recitazione continuò a bruciare dentro di lui. Deciso a perseguire la sua carriera nel mondo dello spettacolo, Van Cleef lasciò il lavoro alle poste e si trasferì a Los Angeles, California. Qui si iscrisse all Actors Studio di New York per affinare le sue abilità recitative. Durante questo periodo, lavorò anche come cameriere e autista di autobus per sostenere economicamente se stesso e la sua famiglia. Van Cleef fece il suo debutto sul grande schermo negli anni 50, ottenendo principalmente piccoli ruoli in film di vario genere. Durante questo periodo, cercò di farsi strada nell'industria cinematografica, ma l'opportunità di un ruolo importante tardò ad arrivare. La carriera di Lee Van Cleef decollò negli anni 60, quando ottenne ruoli di rilievo nei celebri film western Spaghetti diretti da Sergio Leone. Il suo primo ruolo significativo fu quello del cattivo Angel Eye nel film Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo, 1966, accanto a Clint Eastwood e Lee Wallach. La sua interpretazione del spietato assassino gli valse ampi elogi da parte della critica e lo rese un volto riconoscibile a livello internazionale. Van Cleef continuò a lavorare nel genere western Spaghetti, interpretando ruoli da cattivo in film come per qualche dollaro in più, 1965, e Il Grande Silenzio, 1968. La sua presenza sullo schermo, con il suo volto caratteristico, gli occhi penetranti e la cicatrice sulla guancia destra, contribuì a creare una figura indimenticabile del cattivo nel cinema. Nonostante la sua immagine di cattivo, Van Cleef dimostrò anche la sua versatilità come attore. Nel film Barchero, 1970, interpretò un personaggio positivo, dimostrando la sua capacità di adattarsi a ruoli diversi. Dopo l'era dei western Spaghetti, Van Cleef ampliò la sua carriera lavorando in vari generi cinematografici. Recitò in film d'azione come Fuga da Alcatraz, 1979, diretto da Don Siegel e interpretato da Clint Eastwood. Apparve anche in film di arti marziali come Ritorno alla quarta dimensione, 1985, nel quale lavorò con il maestro delle arti marziali Shoko Suji. La carriera di Lee Van Cleef si distinse per la sua presenza magnetica sullo schermo, la sua abilità nel dare vita a personaggi memorabili e la sua versatilità come attore. Nonostante avesse raggiunto la fama come cattivo, Van Cleef rimase un attore rispettato e amato dal pubblico per la sua capacità di portare profondità e carisma ai suoi ruoli. Nella sua vita privata, Lee Van Cleef si sposò due volte. Il suo primo matrimonio fu con Pazzi Ruth Kale, da cui ebbe due figli, Alan Van Cleef e David Van Cleef. Tuttavia, il matrimonio finì con un divorzio. Successivamente, Van Cleef si risposò con John Drane nel 1976. La coppia rimase unita fino alla morte dell'attore. Van Cleef era noto per essere un uomo riservato e discreto sulla sua vita privata. Manteneva una certa distanza dalla fama e dal mondo del cinema, preferendo concentrarsi sul suo lavoro come attore. Era considerato un uomo gentile e amichevole dai suoi colleghi sul set. Al di fuori del lavoro, Van Cleef aveva diversi interessi, tra cui il giardinaggio e la musica. Era un appassionato chitarrista e suonava il suo strumento durante il tempo libero. Lee Van Cleef morì il 16 dicembre 1989 a Oxnard, in California, all'età di 64 anni. La causa della sua morte fu un infarto. La notizia della sua scomparsa colpì il mondo del cinema e i suoi numerosi fan. Van Cleef era un attore molto amato e rispettato per il suo talento e le sue interpretazioni memorabili. La sua morte rappresentò una perdita significativa per l'industria cinematografica. Nonostante la sua scomparsa, l'eredità di Lee Van Cleef continua a vivere attraverso i suoi film, che continuano ad essere apprezzati dai fan di tutto il mondo. La sua iconica presenza sullo schermo e la sua abilità nel portare vita ai personaggi rimangono una parte importante della storia del cinema. Attraverso i suoi indimenticabili ruoli da cattivo nei western spaghetti, Van Cleef ha lasciato un'impronta duratura nel panorama cinematografico. La sua presenza magnetica sullo schermo, con quegli occhi penetranti e la cicatrice sulla guancia, ha reso i suoi personaggi icone del cinema. Oggi, possiamo ancora apprezzare l'eredità di Lee Van Cleef attraverso i suoi film, che continuano a ispirare e intrattenere gli spettatori di tutte le generazioni. La sua abilità di trasformarsi in personaggi complessi e affascinanti ha fatto sì che il suo talento restasse indelebile nella storia del cinema. Se sei un amante del cinema e ti appassionano le interpretazioni indimenticabili di Lee Van Cleef, ti invitiamo a iscriverti al nostro canale per rimanere aggiornato sulle ultime notizie e approfondimenti sul mondo del cinema. Non perdere l'opportunità di esplorare l'opera di uno dei più grandi attori di tutti i tempi. Grazie a tutti.